Nelle ultime 48 ore un caso di morbillo che riguarda un signore di 40 anni straniero che è attualmente ricoverato in ospedale con anche una polmonite e una signora di 25 che invece non ha avuto bisogno di ricovero ma ha avuto la diagnosi di morbillo quindi nelle ultime 48 ore due casi, speriamo in qualche modo che non aprano una nuova stagione di un fatto epidemico comunque evidentemente tranquillizziamo la popolazione, il morbillo normalmente si gestisce a casa salvo quando ci possano essere delle complicanze dove evidentemente vi è la necessità di un eventuale ricovero anche se breve in ospedale. Noi abbiamo già avuto, ricordiamolo, qualche anno fa una grossa epidemia proprio nella città di Genova ma in particolare con più di 100 ricoveri al San Martino speriamo di non dover vedere nel futuro, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi una nuova epidemia di questo tipo. Sarebbe veramente un peccato perché ripeto il morbillo è prevenibile al 100% con la vaccinazione.